Luigi Diddio, Reset 4.0 oggi rileva una situazione per voi politicamente sgradevole che è accaduta all'interno del Consiglio Comunale. Ci vuole spiegare che cosa? Bene, noi di Reset 4.0 abbiamo presentato una mozione per allargare alle famiglie bisognose l'assegno civico. Sono stati stanziati dall'assessorato alla famiglia pochissimi soldi e solo 111 famiglie usufruiranno di questo beneficio. Noi abbiamo presentato una mozione per impegnare l'amministrazione a utilizzare altre risorse affinché altre famiglie possono beneficiare di questa situazione. Intanto diciamo di quanto sarebbe questo sussidio? Il sussidio è di circa 3-4 mesi di lavoro presso il Comune. Alcuni consiglieri con tracotanza hanno preferito abbandonare l'aula proprio perché era il Reset 4.0 a trattare questo punto perché sono stato parecchio duro nei consigli precedenti con il PD regionale e nazionale sia sul caso della sanità e sia sul caso Eni. Lei quindi ritiene le due situazioni connesse? Nello specifico in aula che cosa è accaduto e quali sono state le vostre reazioni? Sì, c'è stata la reazione del capogruppo PD che ha dato ordini di abbandonare l'aula ai suoi. Molti non l'hanno fatto per senso di proposta perché hanno visto che la proposta era valida. Per esempio il consigliere Biundo e il consigliere Gallo sono rimasti in aula a trattare il punto. Sostanzialmente dunque il documento non è passato? Sì, il documento ora viene rimandato a settembre perché io l'ho ripresentato in sostanza queste famiglie la lista non potrà scorrere tranne che l'amministrazione non faccia suo comunque l'impegno. Comunque a prescindere dalle posizioni politiche quando ci sono atti importanti per la città non si può scendere sulle beghe dei partiti ma bisogna rimanere in aula e a dibattere sulle problematiche che ci sono. Poi le beghe e le polemiche vanno fatte e il confronto ci deve essere. Non tutti siamo dello stesso partito e non tutti la vediamo allo stesso modo.